La stasera Pescara ha una piccola rivoluzione nel traffico, almeno in quest'area, in via Ferrari. Ci sarà un'istituzione di due sensi unici, tutto questo ovviamente per fluidificare il traffico, in particolare in vista della riapertura delle scuole e comunque della riapertura di varie attività dopo l'estate. Che cosa succederà su questa strada, Assessore? Verranno istituiti due sensi unici, uno su via Bassani-Paone e un'altra su via Enzo Ferrari. Queste sono scelte neanche politiche, come le definisco io, ma sono scelte tecniche, nel senso che già da tempo abbiamo, rispetto con i tecnici del Comune, abbiamo valutato quello che era un po' una problematica, vale a dire che soprattutto nelle ore di primo mattino si creava un imbuto all'interno su via Enzo Ferrari con le macchine che arrivavano anche da via Rigopiano e dall'altro asse della stazione. Noi siamo molto fiduciosi, dopodiché si tratta anche di una sperimentazione, perché non verranno fatte opere irreversibili che poi non consentiranno eventualmente di passare dietro. Quindi diciamo che è una sperimentazione che nell'arco temporale minimo di tre mesi ci consentirà di verificare come verranno recepiti e quello di valutare alla fine qual è la soluzione migliore. Il senso sarà nell'asse da nord che va verso sud, quindi in questa parte dal primo tunnel che vediamo lì della stazione fino a via del circuito, sarà un senso unico da nord verso sud. In questa maniera andremo a evitare, ecco dove è in questo momento l'autobus, proprio quell'imbuto che si creava lì in quel condesso, soprattutto nelle prime ore del mattino quando c'è tanto traffico. Invece dall'altra parte per l'appunto verrà bilanciato da un altro senso unico su via Paoni-Bassani-Paone che ci consentirà per l'appunto in quel caso da sud verso nord, quindi anche un senso unico fino all'imbocco della stazione, quindi invece sulle altre parti praticamente rimarrà il doppio senso di marcia, quindi soltanto queste due parti. C'è un'altra novità che riguarda i parcheggi, ora è già possibile parcheggiare di lato, lo vediamo qui su via Ferrari, ma saranno parcheggi a spina di pesce per cui si recuperano più posti. Saranno altri posti che noi andiamo a trovare nelle vicinanze della stazione che quindi andranno a compensare quei parcheggi che sono stati sottratti provvisoriamente per i lavori che stiamo facendo sull'area di risultato. Se non ci fosse il traffico saremmo più contenti, quindi queste misure come stiamo anche lavorando in questo contesto su altre zone per capire se possiamo migliorare la viabilità, quindi ci saranno nei prossimi mesi anche altre iniziative, così come abbiamo individuato altri parcheggi. Adesso anche nell'area di risulta una parte, da qui a fine anno andremo già a riprendere altri quasi 100-200 posti, come andrà avanti il cantiere, quindi siamo fiduciosi che alla fine i cittadini pescari non avranno soltanto un'area risulta più bella, ma avranno anche più parcheggi di quelli che ci sono oggi.